GF VIP, Jael Dedona e Mikolin Curvaia violano il, mentre non sono riprese, cosa hanno fatto nel ban? Mikolin Curvaia e Jael Dedona sono due delle protagoniste di questa edizione del GF VIP. Nella notte le due geffine si sono rese protagoniste di un gesto che non è di certo passato inosservato sui social. I telespettatori del grande fratello VIP stanno discutendo animatamente per via di un gesto posto in atto da Mikolin Curvaia e Jael Dedona durante la notte. Le due coinqueline, infatti, si sono rese protagoniste di un momento che ha fatto insorgere alcuni fan del programma e che potrebbe addirittura costar loro caro. Ma cosa hanno combinato di tanto grave? Per quale motivo ora vengono additate da tutti i fan del reality show di casa Mediaset? E. Soprattutto, verranno presi i provvedimenti nei loro confronti. Foto credits, per gentile concessione dell'ufficio stampa and emulsion Italy, music, cute from Bensound. Come leggi anche, cosa ha pianificato Edoardo con Nicole su Nikita, farà troppo ridere. Cosa avevano organizzato su di lei? Come leggi anche, cosa ha pianificato? Come leggi anche, cosa ha pianificato? Grazie a tutti.